Ciao a tutti amici di Atletica Leggera TV, sono Marco Lingua e lancio il martello da più di 20 anni. Quest'anno ho fatto 37 anni e mi sono trovato a fare la grande atletica. L'ultimo fine settimana ho fatto la Coppa Europa, ho fatto un quinto posto alla Coppa Europa. Mi ha dato molta energia questo evento, ora vado avanti e cercherò di fare bene i campionati del mondo. Ho fatto il minimo, che era 76 metri, ho fatto il 76-01, il 25 a fine aprile in Portogallo. E quindi è un sogno, quest'anno sono veramente soddisfatto di come sta andando la stagione. Allora, adesso vi farò vedere un attimino come mi preparo di solito. Allora dunque, tra poco vado a fare un po' di stacco. Allora, lo stacco è importantissimo per il lancio del martello. Perché? Per lanciare lontano il martello devi avere la schiena fortissima. Fortissima che devi tenere. Perché devi tenere un tiraggio pazzesco che arriva fino a 300 kg. Adesso, guardate, io farò uno stacco con 270 kg per tre ripetizioni. Quindi pensate come devi essere preparato per fare questa disciplina. Allora, niente, dopo questa grande performance, vi ho dato solo un assaggio. Vi ho fatto vedere solo un assaggio. Ci vediamo sicuramente presto. E niente, saluto tutti. Mi raccomando, fate atletica e non mollate mai. Ciao, ciao a tutti.